Avesse fatto un tango, l'avrei capita, a mettersi via a fare la disco dance, ero un po' fuori posto. Mi piacerebbe fare una bella figura in provincia varese, so che c'è un candidato varese, lasciatemi dire, so che non vincerà, il coordinatore mi ha guardato stop, ma io lo posso dire, non lo può dire lui, che lui deve dire votato il candidato varese, ma lo posso dire io, che sono sicuro di arrivare in Europa.